siccome mi è rimasto un po di sesamo a giucciurina allora abbiamo messo un po di zucchero e abbiamo fatto la cosa con la cubaglietta e la cubaglia adesso la tagliamo e ci vediamo per la prova della tazza la cubaglietta di sesamo come come zucchero e sesamo buona serata